Io vi farò una presentazione di quello che fa Devler e di cosa ci occupiamo, nella speranza anche che possa nascere magari con qualcuno di voi una collaborazione. Noi fra l'altro siamo interessati, dopo lo dirò meglio, ma siamo interessati a ogni genere di collaborazione, cioè se fra qualche di voi ci potesse essere qualche nostro cliente sarebbe venuto ovviamente, però cerchiamo anche persone magari da unire al nostro team, quindi la presentazione diciamo è bivalente. Ok, come ho detto ci occupiamo di sviluppo software, non ho detto che ci occupiamo anche di progettazione elettronica, questa è una cosa doppia che facciamo, praticamente nella realizzazione di un prodotto riusciamo a vederlo un po' a 360 gradi, quindi dalla progettazione elettronica, la realizzazione di piccole quantità anche di device, sviluppo del sistema operativo che ci va sopra, sviluppo delle applicazioni tipicamente con QT, oppure tipicamente con QT devo dire, però diciamo ci sono anche altre tecnologie, dopo spiegherò. Vabbè stiamo qui di Firenze, qui in zona, abbiamo cominciato nel 2001, quest'anno abbiamo compiuto 10 anni di attività, quindi un'attività consolidata, siamo una trentina di persone, queste trenta persone sono quasi tutti sviluppatori, a parte io che ormai non me ne occupo più tanto, un paio di segretari o ragazzi si occupano del marketing, diciamo sono tutti sviluppatori o progettisti elettronici, quindi è un'azienda fortemente basata sulla competenze tecniche e sullo sviluppo del software e della progettazione elettronica. Come sapete ci sono anche aziende ribaltate dall'altra parte, che hanno tutta una grossa fetta di marketing commerciale e quant'altro e poi ci sono anche gli sviluppatori, ecco noi siamo ribaltati nell'altro senso. Abbiamo realizzato chiaramente tantissimi progetti, 150 credo che sia una stima ma ovviamente per difetto, abbiamo tanti clienti, questi 40 che ho citato sono 40 clienti attivi, cioè abbiamo 40 clienti con cui abbiamo attualmente un rapporto di continuità, chiaramente poi nel passato ce ne sono stati molti di più, alcuni li abbiamo persi per strada e però molti, ci piace dire, li abbiamo portati avanti perché nel nostro lavoro, come immaginassi, voi fate più o meno lo stesso lavoro che facciamo noi o comunque le cose analoghe, sapete che spese clienti ce li portiamo dietro a lungo insomma perché tornano e tornano. E noi piace dire che i nostri insomma abbastanza frequentemente tornero a lavorare con noi. Ci occupiamo dello sviluppo software come vedete un po' da tutti i livelli, quindi la pianificazione dello sviluppo, customizzazione di software, consulenza in questo ambito, corsi di cui vi parlerò anche, anzi abbiamo un paio di corsi su Qt proprio che organizziamo nelle prossime settimane, dopo vi dirò qualche dato in più. Facciamo progettazione elettronica, come vi dicevo, quindi progettazione elettronica di un bel livello, piccolissimi dispositivi per farvi capire dove non riuscirebbe a girare nemmeno Linux o Windows, quindi tanto meno Qt, quindi però dispositivi molto piccoli, quindi dispositivi un po' più grossetti su cui si riesce a far girare o Linux o Windows e quindi a quel punto noi usiamo Qt su queste piattaforme. Poi implementazione dell'hardware, infine a fare piccole prototipizzazioni, piccole produzioni. Questo grafico ho scordato di aggiornarlo, vabbè comunque rappresenta un po' la crescita della devlet, da in dieci anni è cresciuta molto, se dovesse aggiornarla adesso arriverebbe circa un po' sopra growth, quella con le parti lì. Siamo molto vocati all'open source, sia dall'inizio, da dieci anni che siamo aperti sono dieci anni che siamo vocati all'open source, le persone che assumiamo hanno tutti una qualche tipo di esperienza nel mondo dell'open source, come avete visto Giovanni, il mio socio è perfettamente, conosce molto bene il tema, delle licenze per esempio e spesso contribuiamo a progetti open source e incentiviamo i nostri collaboratori dipendenti a lavorare nel mondo open source, tant'è anche che ritribuiamo ai nostri dipendenti una parte del lavoro che loro fanno sul progetto open source che non c'entrano magari niente con noi e per i quali noi non veniamo pagati, però incentiviamo i nostri dipendenti a collaborare al progetto open source proprio perché vogliamo rimanere in questo mondo, essere sempre più in questo mondo. Oltre al C++ che è una delle nostre tecnologie principali, l'altro nostro linguaggio preferito o più usato di tutti è il Python. Come sapete o forse saprete Python e Qt vanno abbastanza a braccetto con PyQt, la libreria PyQt, quelle che almeno usiamo noi e abbiamo una grandissima esperienza con Python è un linguaggio che ci piace molto, C++ è molto veloce, mainstream e quant'altro Python è molto veloce a scriversi, è molto potente una riga di Python, sono diverse righe di C++ insomma con densità è chiaramente portabile e quindi si sposa a braccetto con Qt proprio perché entrambi sono portabili, quindi un'applicazione fatta con Python e Qt risulta molto veloce da scriversi grazie alla potenza del Python grazie alla potenza di Qt che messa insieme risultano, si riesce a scrivere codice molto velocemente e si ottiene anche la portabilità sulle principali piattaforme desktop almeno, quindi Windows, Macintosh e Linux. Come vi dicevo siamo abbastanza attivi nell'organizzazione di conferenze tecniche tant'è che abbiamo cominciato già 4 anni fa, 5 anni fa, 5 anni fa a realizzare la conferenza nazionale sul Python che è il PyCon, Python Conference. Ha avuto un grande successo, abbiamo avuto fino a 400 partecipanti da tutta Italia abbiamo avuto qui a Firenze l'ideatore del Python che è Guido Berrossum quindi un bel evento, tanto bello che l'anno scorso ci siamo sempre incaricati di organizzare anche l'Europython, cioè la conferenza europea sul Python che è itinerante, ogni due anni gira in Europa e abbiamo avuto per due anni in Italia l'anno scorso e nel 2012 la faremo di nuovo qui a Firenze, questo Europython a luglio se fate sul sito lo trovate eccetera. Solo per citarvi dei dati, l'anno scorso sono venute 700 persone da tutta Europa ed anche da fuori Europa c'erano giapponesi, statunitensi, australiani, insomma un bel evento insomma in Italia non ce ne sono tantissimi eventi internazionali sul software di queste dimensioni quindi siamo particolarmente orgogliosi di questo successo. Ok, come vi dicevo ci occupiamo di progettazione elettronica su dispositivi talmente piccoli su cui non può girare Linux e quindi tantomeno nemmeno Qt noi facciamo girare un sistema operativo che ci siamo realizzati ce ne sono mille, però open source e close source però sai ognuno gli piace far da sé e soprattutto abbiamo realizzato qualcosa che pensavamo non ci fosse nel panorama dei sistemi embedded precedenti si chiama Bertos, è un sistema operativo real time appunto per dispositivi relativamente piccoli sul sito poi trovate tutte le piattaforme che supportate e la differenza rispetto a una licenza GPL modificata quindi poi per la licenza vi levi risparmi dei dettagli in questa sede però diciamo è un sistema operativo che se voi conoscete un po' il mondo del open source diciamo embedded potrebbe essere imparagonabile a FreeRTOS come tipologia di sistema FreeRTOS ha la caratteristica però di essere soltanto un kernel quindi voi dovete poi svilupparci tutto intorno avete bisogno di un driver, non so, networking, controllo di un motore passo passo che ne so, controllo di un display ma anche librerie tipo avete bisogno di una libreria di qualsiasi genere di sviluppare diciamo per sviluppare più velocemente dovete trovare questi oggetti su internet assicurarvi di avere una licenza compatibile con quella di FreeRTOS e poi cercare di scrivere tutto il codice COLA che serve per far funzionare il tutto differentemente Bertos sulle poche piattaforme che supporta le supporta molto bene cioè ha di contorno tutte queste cose qua quindi quando voi portate un software scritto su Bertos da una piattaforma ad un'altra vi trovate già tutto il pacchetto di compatibilità di tutte le librerie, driver e quant'altro quello che vi può servire quindi pensiamo di aver aggiunto nel panorama del sistema operativo open source real time di aver aggiunto un tassello che mancava cioè un sistema operativo real time open source che abbia con sé anche tutte le librerie e driver per tutte le piattaforme che supporta come vi dicevo siamo attivi nelle la cosa principale che facciamo è lo sviluppo del software facciamo progettazione elettronica e poi ci piace dire facciamo innovazione innovazione cosa vuol dire? vuol dire organizzare un QtD ad esempio vuol dire organizzare dei corsi in cui appunto su Qt o su altri argomenti che possono essere su Qp, su Python su diciamo le licenze open source in generale su altri argomenti per andare nelle aziende e magari aggiornarle su questi temi sui quali possono essere completamente aggiornate magari hanno capito che c'è qualcosa ma gli fa piacere che qualcuno un esperto vada a dargli almeno una panoramica di quello che può ottenere prima di partire a guardare su Google o subito dopo aver guardato su Google quello che potete immaginarvi che fa un'azienda che sviluppa software facciamo la progettazione e l'implementazione facciamo la modifica di software esistente quindi in aziende in cui c'è già del software magari iscritto da tanti programmatori sapete che entrare con la testa in un software già esistente non lo può fare lo può fare comunque ma non è una figura junior insomma ci vuole comunque esperienza noi abbiamo tante persone con questa esperienza e quindi lo facciamo abbastanza spesso applicando buone tecniche di refactoring anche un codice vecchio si riesce progressivamente senza buttarlo via si riesce abbastanza spesso progressivamente a rendere migliorabile con piccoli sforzi continui senza dover buttare via il vecchio codice e ricominciare da qua dipende dai casi ci sono dei casi terribili però spesso ci riusciamo vi saranno capitate anche i casi terribili ok diciamo tutto il software che noi realizziamo tipicamente il nostro cliente ce lo chiede per una piattaforma massimo due insomma è difficile che ci chieda un software completamente molti piattaforma però noi per abitudine lo sviluppiamo sempre in molti piattaforma cioè quando sviluppiamo un software che usiamo C++ che usiamo Python in ogni caso usiamo Qt questi strumenti ci consentono di farlo in molti piattaforma quindi il software viene tutto il software che scriviamo viene di natura molti piattaforma dopodiché tipicamente lo rilasciamo solo per la piattaforma che interessa il nostro cliente però lui sa che con un altro 5% di lavoro si riesce ad aggiustare quelle quattro cose che si servono a farlo girare su un'altra piattaforma come sapete Qt è molto potente in questo quindi se voi sviluppate un'applicazione con Qt per una piattaforma abbastanza velocemente diciamo dovete ritoccare qualcosina però quasi subito è portabile sull'altra piattaforma e noi diciamo quasi subito lo facciamo su richiesta però tutto il resto lo facciamo lo facciamo di default ecco vabbè da quanto riguarda l'hardware facciamo questa attività qui quindi la 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 progettazione elettronica facciamo anche svecchiamento di hardware quindi ci sono a volte ci avviano dei clienti con delle schede degli anni 80 con dei condensatori altri così e altri processori che mai avevo visto e a volte semplicemente li facciamo refactoring questo vuol dire a volte fare anche reverse engineering di quello che è stato fatto perché spesso non hanno il codice d'urgente il manuale la documentazione non c'è nulla c'è solo la scheda ce la danno cerchiamo di capire cosa faceva accendendola insomma reverse engineering produciamo appunto la documentazione a partire dalla dalla la documentazione tecnica a partire dalla scheda invece di produrre la scheda a partire da la presentazione tecnica una volta abbiamo documentazione tecnica a quel punto riprogettiamo la scheda per i nostri clienti ok e questo è quello che vi dicevo cioè su sistemi piccolini usiamo il nostro vertus sul sistema più grosso usiamo linux con microci linux anche se lo usiamo molto meno adesso rispetto a qualche tempo fa e poi su linux per i nostri clienti sviluppiamo con Qt tipicamente sopra se c'è un agui o comunque c'è un sistema sufficientemente complesso che richiede una parte almeno del framework di Qt come vi dicevo facciamo cerchiamo di proporre sempre innovazione ai nostri clienti e diciamo utilizziamo molte a differenza di molti nostri concorrenti utilizziamo un sistema di diciamo colloquio con i nostri clienti che è molto aperto abbiamo rubato alcune tecniche diciamo dal mondo open source per cui per ciascuna commessa che ci viene commissionata noi realizziamo una mettiamo in piedi una mailing list sapete che molti progetti open source vengono coordinate completamente tramite strumenti online tipicamente una mailing list in cui tutti possono discutere di quello che succede e noi facciamo questo cioè tutti i nostri quando un cliente ci chiede di sviluppare un software noi mettiamo su questa mailing list in cui sono iscritte tutto il nostro team non tutti tutto il team dedicato a quel cliente e i i tecnici del nostro cliente quindi il nostro cliente può discutere in quella mia lista di tutte le questioni tecniche riguardo al progetto e essere il primo lui a suggerire soluzioni tecniche se è un cliente diciamo che ha delle competenze tecniche ed è in grado di appunto dare un contributo tecnico lui stesso quindi è molto aperto come tipo di approccio non è una ci vediamo fra sei mesi con ci vediamo fra sei mesi con con il software fatto ma lavoriamo insieme in questi sei mesi finché il software non sarà fatto ci sono tutti altri strumenti di collaborazione online che adesso non vi sto a raccontare per motivi lungaggine però avete capito il tipo di di approccio tra l'altro tutto il software che viene committato nel nostro repositorio dei sorgenti viene anche elaborato da uno script automatico che abbiamo che manda i diff cioè le differenze del software prodotto li manda nella mailing list stessa quindi il cliente può vedere giorno giorno i diff prodotti da ciascun programmatore che noi abbiamo messo sul progetto e questo dà una anche il cliente abbiamo clienti francesi che a distanza di non so quante migliaia di chilometri comunque hanno una percezione giorno giorno di quanto software noi stiamo producendo per loro e questo è un valore tipicamente per i nostri clienti oltre a questo ci sono altri strumenti poi magari se volete giù al banco della Develer potete sapere di più usiamo Qt da tantissimo dal 2002 lo usavamo già sul Linux a suo tempo prima che ovviamente fosse comprato da Nokia eccetera quindi abbiamo una lunga esperienza abbiamo esperienze con più o meno tutte le cartofrime Windows Linux diciamo X11 Mac e chiaramente nel mondo embedded usiamo PyQt dal 2004 come vi ho detto molto velocemente le cose che ho detto prima PyQt è uno strumento molto potente per i motivi che vi ho spiegato prima vi volevo presentare qualche caso di progetti che abbiamo realizzato un po' perché siamo molto orgogliosi di quello che facciamo un po' perché vi faccio vedere anche le potenzialità per chi non le conosce fra di voi le potenziali di Qt e le potenzialità di PyQt cioè dell'unione del matrimonio direi fra Python e Qt questo è un prodotto sul quale stiamo lavorando da molti anni con un nostro cliente che realizza macchine da taglio sapete per tagliare la pelle per realizzare le scarpe quel macchinone da 150.000 euro viene accompagnato da un softrino che è un CAD questo softrino costa più del macchinone ovviamente perché l'abbiamo realizzato in 5 anni credo cioè una cosa che ci ha voluto tanto tempo un intero CAD come potete immaginare AutoCAD per capirvi a guardarlo da fuori sembra avere quel grado di complessità ed è un CAD molto complesso non poteva essere usato AutoCAD perché un CAD per le scarpe è diverso da un CAD tecnico se voi pensate se voi zoomate in un CAD tecnico questo banalmente scava tutto in maniera proporzionale mettere un piede non scava in maniera proporzionale cioè se voi cambiate taglia dalla 42 alla 45 il piede non scala proporzionalmente la anatomia umana non è fatta così quindi banalmente solo per risolvere questo problema serve un CAD dedicato comunque una funzione dedicata oltre a questo ci sono un sacco di concetti interni tipici del problema comunque tornando alle questioni tecniche è un software che poteva che poteva essere scritto in in CPU più il 99% dei CAD al mondo è scritto in CPU più perché è il linguaggio giusto per farlo e noi l'abbiamo fatto in Python invece questo ci ha reso possibile lo sviluppo molto più velocemente tutta la GUI questa è una versione di qualche anno fa quindi ha molto meno bottoni ma ora è molto più complessa tutta la GUI è fatta in QT tutta la parte di gestione diciamo della GUI è fatta in Python quindi con la potenza e la densità diciamo del Python e tutta la parte interna che si vede un po' malina di disegno tecnico è fatta con OpenGL perché chiaramente è accelerata in modo tale da avere tutti i vantaggi dell'accelerazione grafica che OpenGL offre quindi queste tecnologie vanno facilmente a passeggio e noi diciamo abbiamo una bella esperienza su questa cosa se dovete fare una cosa del genere sono tecnologie che consigliamo diciamo e beh qui vi ho già detto tutto quello che vi ho già detto ok questo era un altro caso di un software analisi medica fatta con QT con PyQT in realtà vi risparmio qualche dettaglio però abbiamo abbiamo diciamo usufruito dell'internationalization che la QT offre che è molto utile in questo caso database interaction tutto quello che sapete che QT fa bene insomma questo è un altro caso che ci piace molto è un nostro cliente che sviluppa un sistema di domotica e praticamente sistema di domotica basato su Linux quindi praticamente in casa avete un sistema embedded con Linux sopra con un touchscreen tra il pollice e mezzo e tutto il software che ci gira sopra diciamo è fatto con QT e questo va bene è una semplice schermata di gestione della temperatura in una stanza però potete immaginare la complessità della cosa per l'altro adesso stiamo portando questo software su un display da 10 pollici facendo tutto il porting dell'interfaccia con nel contempo aggiornando QT e quant'altro quindi questo è un caso tipico di applicazione che noi facciamo un'altra cosa simile a questa per esempio è per un altro nostro cliente che fa inverter per la produzione di energia elettrica insomma diciamo la produzione di energia elettrica con i pannelli solari questo inverter ha a bordo un sistema embedded molto simile a questo touch in 3 pollice e mezzo Linux QT col quale uno può controllare cosa sta facendo l'inverter e quant'altro quindi queste sono un po' le tipiche applicazioni che noi realizziamo fa quello che vi immaginate possa fare una roba di domotica un control touch screen interface come ho parlato di nuovo l'internazionalizzazione è fondamentale perché azienda francese con serie d'Italia vende tutto il mondo Sud America eccetera chiaramente deve essere in più lingue quindi la potenza di QT in questo aiuta molto ho finito noi siamo qui a Firenze vi volevo soltanto dire due o tre cose in più e basta uno è che qui sotto abbiamo il nostro banco diciamo quindi col quale potete interagire per chiedere maggiori informazioni sia su nostri servizi QT sia su Bertos come vedete c'è un banchio di Bertos sull'altro c'è Arale che è il nostro robot controllato da Bertos e qui sotto cammina la potete anche far camminare twittando su Twitter quindi vedete un po' la potenzialità e come vi confermo siamo alla ricerca sempre di persone da inserire nel nostro team qui di Firenze quindi anche questo se a qualcuno di voi o conoscete qualcuno che può essere interessato mandateci pure un'email a Jobs e Devler cerchiamo ogni figura professionale soprattutto programmatori ma anche per esempio project manager commerciale e quant'altro e poi vi devo dire che praticamente nella vostra borsa avete questo questo Deplian che parla che diciamo illustra due corsi che noi faremo su QT uno là fra due settimane uno fra tre settimane dovrebbero essere comunque c'è scritto qui febbraio uno a febbraio uno a marzo sono corsi QT di due livelli il primo è proprio basic quindi chi vuole iniziare a imparare a programmare con QT e l'altro invece su QT Quick e quindi tutte le potenzialità che QT Quick può dare per rendere le vostre applicazioni ancora più accattivanti specialmente l'embedded noi lo stiamo usando lo stiamo cominciando a utilizzare QT Quick con successo in alcuni ambiti anche quelli domotici ad esempio e è veramente una cosa molto carina che vale la pena di vedere se vi interessano i nostri corsi trovate le informazioni qui grazie grazie a presto